Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato lo sfruttamento commerciale dello spazio extraterrestre per l'utilizzo di risorse o attività nello spazio al fine di generare profitti. Ci sono diverse opportunità di sfruttamento commerciale dello spazio, quali l'esplorazione e l'estrazione di risorse su corpi celesti come la Luna o gli asteroidi, il turismo spaziale, la costruzione di stazioni orbitali per la ricerca scientifica, per la conversione di energia solare in energia utilizzabile sulla Terra o per scopi commerciali ed industriali e l'utilizzo di satelliti per fornire servizi come il trasporto di dati, la navigazione o la sorveglianza. Tuttavia, lo sfruttamento commerciale dello spazio è ancora in una fase iniziale ma in rapida crescita e presenta diverse sfide, sia tecniche, sia economiche che politiche. Ad esempio, i costi di sviluppo e di lancio di progetti spaziali sono ancora molto elevati e ci sono questioni legali e normative da risolvere per stabilire chi ha il diritto di utilizzare le risorse o attività nello spazio extraterrestre. Inoltre, ci sono preoccupazioni per l'impatto ambientale e l'inquinamento spaziale e l'accesso allo spazio è ancora limitato a pochi paesi con programmi spaziali avanzati. Nonostante queste sfide, ci sono diverse aziende e organizzazioni, pubbliche e private, che stanno sperimentando modelli di business innovativi per sfruttare le opportunità offerte dallo spazio. Ad esempio, alcune aziende stanno sviluppando tecnologie per estrarre risorse come l'ossigeno o l'acqua o i metalli dalla Luna o dagli asteroidi, mentre altre stanno lavorando su progetti di turismo spaziale o sulla costruzione di stazioni orbitali per la ricerca o per attività industriali di vario genere o come basi per l'esplorazione spaziale o per l'estrazione mineraria sui corpi celesti. La Luna e gli asteroidi sono uno scrigno di tesori e per questo diversi paesi stanno investendo molte delle loro risorse per visitare la Luna il prima possibile ed in seguito Marte, gli asteroidi e gli altri pianeti in una corsa non dichiarata. Scienziati di diversi campi ed in tutto il mondo credono fermamente che il previsto ritorno dell'umanità sulla superficie lunare nei prossimi anni potrebbe aiutare le condizioni di vita dell'umanità ed introdurre un enorme cambiamento a tutto tondo in ogni aspetto della vita umana sulla Terra. Con l'irrompere della Cina sulla scena spaziale e con un generale rinnovato accento sul tema delle attività spaziali degli ultimi anni, si è entrato in una seconda nuova corsa allo spazio, dopo quella storica che vide confrontarsi Stati Uniti e Unione Sovietica in piena guerra fredda. A partire dal 2015 circa, si è verificata un'improvvisa accelerazione delle dinamiche inerenti le attività spaziali, già in qualche modo stimolate dal rapido exploit della Cina, quale nuova potenza spaziale, e dall'irrompere sulla scena dei privati quali nuovi, indipendenti ed incontrollabili attori del gioco spaziale. Queste dinamiche hanno fortemente scosso il modus vivendi cui il mondo era abituato, in cui l'attenzione era per lo più focalizzata sulla Stazione Spaziale Internazionale quale catalizzatore di intenti, progetti e cooperazione sublimata ai massimi livelli fra tutti gli attori attivi in campo spaziale. In pochissimi anni, lo spazio è tornato ad assurgere a campo di gioco per una nuova importante partita, quella che vede come nuova meta, la permanenza dell'uomo nello spazio. Non siamo in un film di fantascienza. Molto più prosaicamente, siamo passati dalla curiosità scientifica dell'esplorazione, che caratterizzava la prima corsa allo spazio, allo sfruttamento delle risorse spaziali e dallo sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto nello spazio. Occorre verificare, però, se ciò sia fattibile, soprattutto dal punto di vista delle norme di diritto internazionale in materia. Attualmente l'economia dello spazio o space economy è in forte ascesa. Nel 2021 il giro d'affari totale ha superato i 370 miliardi di dollari e si prevede che supererà i 1000 miliardi nel 2040 e probabilmente l'economia dello spazio sarà il filo conduttore delle economie del futuro. Le attività per l'economia spaziale si distinguono in space for space e space for earth, cioè quello che si può fare nello spazio per la prosecuzione ed ulteriore sviluppo delle attività spaziali e quello che si può fare nello spazio per i bisogni terrestri. Queste delinea diverse sfide quali Monitorare il clima della Terra Per monitorare il clima terrestre sono state definite 54 variabili climatiche essenziali. Di queste, più della metà possono essere monitorate in modo sistematico, preciso e affidabile solo dallo spazio. Questo significa che per conoscere e comprendere ciò che sta accadendo, dalla desertificazione all'innalzamento degli oceani, il ruolo dello spazio è fondamentale. I dati che arrivano dallo spazio permettono, infatti, di impostare politiche di mitigazione e adattamento per limitare l'inquinamento o l'avanzamento dei deserti. Mantenere le orbite pulite Lo spazio è considerato un bene comune e i dati spaziali vengono utilizzati sulla Terra proprio per migliorare la qualità della vita degli esseri umani. Anche per questo un operatore spaziale che cerca finanziatori per le sue attività in orbita deve poter essere tranquillo che il suo modello di business non sia messo in pericolo perché, magari, entra in contatto con un rifiuto spaziale. Ci sono trattati e linee guida per limitare la presenza di spazzatura spaziale, che vengono applicati sistematicamente, ma con la diminuzione dei costi di lancio e la possibilità di lanciare microsatelliti, ci sono sempre più attori in campo e ci troviamo in una situazione di congestione destinata ad aumentare. Per questo, serve un controllo e un coordinamento del traffico spaziale, cioè sistemi e tecnologie che consentano la rimozione dei rifiuti dalle orbite con una diminuzione di rischi, mantenendo lo spazio un bene usufruibile da tutti. Nel progetto Artemis, la NASA in collaborazione con altre 20 agenzie spaziali nazionali, si sta focalizzando sulla Luna con l'obiettivo di portare gli esseri umani sul nostro satellite entro la fine del decennio. Nel 16 novembre 2022 ha già lanciato la missione Artemis 1, volo di collaudo, senza equipaggio, che ha circunnavigato la Luna. Si tratta di un obiettivo raggiungibile e ragionevole. La tecnologia c'è. Se Artemis viene fatto in collaborazione internazionale con alcune agenzie spaziali europee, l'agenzia spaziale giapponese e la CSA canadese, ci sono anche degli accordi fra Russia e Cina per un programma parallelo. Ci sarà così bisogno di regolare il traffico anche sulla Luna. C'è anche molto fermento per Marte. In tutto questo scenario c'è l'arrivo dei privati. Finora c'erano forti investimenti pubblici che hanno fatto maturare diverse tecnologie partendo dalle quali i privati hanno incominciato a fare progetti per lo sfruttamento commerciale dello spazio. Ma nel caso di Luna e Marte si vedono ora degli investimenti paralleli, un vero e proprio cambio nelle regole del gioco. Nel progetto Artemis è previsto la costruzione del Lunar Gateway, una stazione spaziale in fase di sviluppo che verrà dispiegata in orbita lunare. È destinata a fungere da centro di comunicazione a energia solare, laboratorio scientifico, modulo abitativo a breve termine e area di contenimento per rover ed altri mezzi. È previsto anche la costruzione del campo base di Artemis, il quale sarà la potenziale base lunare e che verrà assemblata entro il 2030. Sarebbe composta da tre moduli principali, habitat di superficie di base, piattaforma di mobilità abitativa e veicolo terrestre lunare. supporterebbe missioni fino a due mesi e sarebbe utilizzato anche per studiare le tecnologie da utilizzare su Marte. Sarebbe soggetta agli emendamenti del Trattato sullo Spazio Esterno del 1967. Anche la Cina ha un ampio ed ambizioso programma di esplorazione e sfruttamento commerciale dello spazio. Il 31 ottobre 2022 la Cina ha lanciato l'ultima parte della sua stazione spaziale modulare Tiangong, completandone la costruzione e che rimarrà dai 10 ai 15 anni e forse oltre. La stazione spaziale cinese offrirà alcune opportunità di collaborazione, permettendo ad altri paesi di inviare esperimenti, e forse, in una fase successiva, anche astronauti. A bordo è già ospitato un esperimento dell'Arabia Saudita, ricercatori di istituzioni europee e di altri paesi hanno proposto esperimenti su una vasta gamma di argomenti, dai raggi gamma, alla medicina spaziale, agli orologi atomici. Anche partner privati cinesi potrebbero essere coinvolti. L'obiettivo sarà probabilmente quello di dimostrare la leadership cinese e che non è necessario dipendere dalle agenzie e dalle aziende spaziali di altri paesi. La NASA non sarà tra i partner di Tiangong. L'agenzia non potrà collaborare con la stazione spaziale cinese per via del cosiddetto emendamento Wolf approvato dal congresso americano nel 2011 e che impedisce alle agenzie statunitensi di collaborare con aziende e agenzie cinesi per motivi di sicurezza nazionale. Per quanto riguarda la Luna dopo alcune sonde in orbita attorno alla Luna, nel 2013 c'è stato l'allunaggio di Chang'e 3, dea cinese della Luna, con il rover lunare Yutyu, coniglio di Giada. Nel gennaio 2019, un altro robot, il Chang'e 4, è atterrata sul lato nascosto della Luna, una missione mai provata prima da nessuna potenza spaziale. Ultima missione è quella di Chang'e 5 del 2020, con un piccolo veicolo spaziale capace di ritornare sulla Terra con due chilogrammi di rocce lunari, i primi campioni raccolti dopo quattro decenni. Tra il 2024 e 2025 è prevista la missione Chang'e 6, gemella della Chang'e 5, che allunerà nel polo sud della Luna e riporterà sulla Terra altri chili di materiale lunare. Per la Chang'e 7, uno dei cambiamenti più rilevanti è la divisione in due lanci della missione. Nel primo, previsto per il 2024, porterà in orbita lunare il satellite per telecomunicazioni Chui e Chiao 2. Nel 2026 ci sarà invece la seconda parte, composta da un orbiter, un lander, due rover, di cui uno dell'Arabia Saudita, e un oper. Per il 2030 è previsto il lancio della Chang'e 8, ultima della serie, che avrà una serie di strumenti, tra cui stampanti 3D per la costruzione di abitacoli per un insediamento umano, che sperimenteranno delle tecnologie per l'utilizzo delle risorse lunari. Questa missione sarà anche una sorta di centro di comando e comunicazione per la futura stazione lunare cinese, la ILRS, International Lunar Research Station, che verrà costruita entro il 2035 in collaborazione con la Russia al polo sud della Luna, che è la zona più ricca di risorse minerali, elio 3 e ghiaccio. La ILRS è la risposta russo-cinese al programma statunitense Progetto Artemis. La stazione ILRS sarà comunque aperta a tutti i paesi interessati e a partner internazionali, per rafforzare gli scambi di ricerca scientifica e promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio per scopi pacifici. Per quanto riguarda la prima missione lunare con equipaggio essa potrebbe partire entro il 2030. Inoltre hanno avviato la progettazione di un'astronave lunga più di due chilometri per l'alloggiamento del personale adibito all'estrazione mineraria spaziale, se vizi di vario genere e ricerca scientifica. Per quanto riguarda Marte con la missione Tianwen-1, domande al cielo, lanciata nel luglio 2020, l'agenzia spaziale cinese ha inviato la sua prima sonda verso Marte. Il veicolo principale, con funzione di orbiter, è entrato in orbita marziana nel febbraio dell'anno seguente e tre mesi dopo ha rilasciato il lander e il rover Zhulong che sono ancora in funzione sulla superficie marziana. Per il 2025 è prevista la missione Tianwen-2. La sonda visiterà un asteroide ed una cometa, riportando a terra alcuni campioni del primo. Il tempo impiegato sarà di 2,5 anni per il primo obiettivo ed oltre 7 anni per la cometa. Con la Tianwen-3, la missione cinese riporterà a terra dei campioni di suolo marziano. Nella configurazione attuale, Tianwen-3 verrà effettuata con due lanci del lunga marcia 5. In entrambi i casi sembra che verrà riutilizzato il bus satellitare di Tianwen-1. Uno dei due avrà il lander con il razzo per il trasporto dei campioni, il secondo modulo orbitale sarà invece utilizzato per il ritorno dei campioni a terra. Questa sonda avrà a bordo solo la capsula di rientro. Infine ci sarà la Tianwen-4, probabilmente la missione cinese più complessa ed ambiziosa attualmente prevista da Pechino. Con un orbiter per lo studio di Callisto, luna di Giove, con passaggio da Giove. Tale orbiter si distaccherà prima dell'inserimento del veicolo principale nell'orbita di Giove. Dopo la Tianwen-4 è previsto lo sbarco di un equipaggio su Marte. Anche l'Agenzia Spaziale Cinese, CNSA, è affiancata da diverse agenzie spaziali private. Per quanto riguarda la Russia dopo la decisione di lasciare la Stazione Spaziale Internazionale dopo il 2024, nonostante le restrizioni di bilancio della sua agenzia Roscosmos, nonché i numerosi incidenti degli ultimi anni riguardanti i moduli della Stazione Spaziale Internazionale, la Russia ha più volte ribadito l'intenzione di mettere in orbita una nuova stazione spaziale tutta russa. La Ros, entro il 2030, si tratterà di una stazione spaziale pensata per essere principalmente automatizzata e quindi senza la necessità di un equipaggio sempre presente a bordo. Inoltre ha firmato una intesa di collaborazione con la Cina per la costruzione della base lunare ILRS. Il monitoraggio spaziale è un'altra area importante per il settore spaziale russo, come illustrato dall'annuncio del Ministro della Difesa che ha delineato i piani per l'implementazione di un sistema di sorveglianza laser ottico entro il 2025. Accanto a questo, la Russia è coinvolta nella corsa al turismo spaziale. Nel programma spaziale dell'India viene data la priorità allo spazio utile, destinando la maggior parte del suo budget ai satelliti applicativi, osservazione della Terra, telecomunicazioni e trasmissione di programmi educativi per alfabetizzare la popolazione soprattutto quella residente in zone remote. Sviluppa diversi lanciatori di potenza crescente. L'Agenzia Spaziale Indiana, la ISRO, con il programma Chandrayaan si prefigge anche essa di esplorare il sistema solare. Con la Chandrayaan 1 lanciata il 22 ottobre 2008 ha posizionato un satellite in orbita a circa 100 chilometri intorno alla Luna, il satellite ha mappato, a infrarossi e raggi X, la superficie della Luna con estrema precisione. Nel luglio del 2019 la ISRO lancia il Chandrayaan 2 con un lander per atterrare al polo sud della Luna. Nel 2024 è previsto il lancio della Chandrayaan 3 e la sonda, sarà composta da un lander ed un rover e sarà svolta in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Giapponese, dovrà esplorare le regioni polari della Luna. Sempre nel 2024 l'India lancerà una missione di studio su Venere. Nel 2014 la sonda indiana Mangaliahan ha raggiunto Marte, entrando in un'orbita ellittica intorno al pianeta ed ha incominciato a studiare l'atmosfera e ne mappa la superficie. Inoltre l'ISRO ha avviato gli studi preliminari per determinare gli aspetti tecnici e gestionali del volo spaziale con equipaggio. Questo programma, detto Gaganiahan, prevede di costruire una capsula spaziale autonoma che possa mettere due o tre membri dell'equipaggio in orbita a 300 km intorno alla Terra e garantire il loro ritorno sulla Terra, cioè uno shuttle. La prima capsula è stata testata con successo il 18 dicembre 2014. Anche l'India ha delle agenzie spaziali private come la Skyroute Aerospace che ha già lanciato con successo un primo razzo sviluppato privatamente. Le agenzie spaziali europea, canadese e giapponese non possiedono un proprio programma di esplorazione lunare o marziano ma sono profondamente coinvolti ed impegnati nella cooperazione con gli Stati Uniti nell'ambito del progetto Artemis. Anche il Pakistan, l'Arabia Saudita, il Brasile, l'Iran ed altri paesi hanno incominciato un loro programma spaziale. Estrarre minerali dagli asteroidi. L'estrazione mineraria dagli asteroidi è uno dei principali scopi della Space Economy. Ma voler portare sul nostro pianeta i metalli, le terre rare, l'elio 3 per la fusione nucleare e di computer quantistici, eccetera e usarle, ad esempio, in campo tecnologico, pone numerose sfide. Una missione di questo tipo implica il rispetto delle regole sulla sterilizzazione degli oggetti che portano campioni sulla Terra o lo sviluppo di strutture per isolare questi campioni che possono contenere microorganismi non presenti sulla Terra, anche se ne si parla poco, nel futuro dunque serve pensare e costruire filiere ed infrastrutture che consentono processi di questo tipo. C'è qualche progetto sulla carta, ma nulla di concreto dal punto di vista operativo. La Cina ha progettato per il 2026 una missione che punta a deviare e studiare l'asteroide 202PN1. Il progetto è interessante e prevede di installare delle vele solari che spingano l'asteroide che ci sta arrivando molto, troppo vicino, in una rotta tale che la Terra possa catturarlo e costringerlo a ruotare attorno a noi come la Luna, invece che a caderci addosso. La novità non è tanto nelle vele solari, che sarebbero mosse dalla radiazione solare, che le spinge come il vento gonfia quelle delle barche, ma dall'idea di non distruggere l'asteroide, come prevedono i progetti statunitensi ed europei, ma di sfruttarlo. Molto interessante anche perché dimostra una sostanziale differenza culturale. Con una tale tecnologia si apre la caccia agli asteroidi da portare in orbita intorno alla Terra ed estrarne i minerali di cui sono composti, cioè delle miniere appena fuori di casa, sfruttabili senza molti problemi. Produrre energia solare nello spazio Dalla Terra si sta sempre più realizzando che ci sono una serie di cose che si possono fare meglio o solo nello spazio, come lo sfruttamento dell'energia solare mediante stazioni orbitanti che assorbono l'abbondante energia solare 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e la convogliano sulla Terra mediante fasci laser o microonde. La Cina vuole provare a sfruttare il Sole per favorire il raggiungimento di un obiettivo storico annunciato dal presidente Xi Jinping. Emissioni zero, neutralità carbonica, entro il 2060. In particolare, prova a farlo con la costruzione di una centrale solare spaziale che nei piani del governo dovrebbe essere completata entro il 2030. Il progetto, al quale lavora un team di ricercatori e ingegneri dell'Accademia dello Spazio Cinese, prevede l'utilizzo di una stazione orbitale come centrale per la produzione di energia solare. Tramite una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria, la stazione, stando ai progetti, dovrebbe essere in grado di raccogliere l'energia solare e inviarla sulla Terra sotto forma di fasci di microonde. E potrebbe farlo 365 giorni all'anno, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Tanto che la città scelta per le sperimentazioni è la metropoli sud-occidentale di Chongqing, famosa per la più che frequente nebbia. La centrale orbitale avrebbe una potenza di un megawatt ma entro il 2049, centenario della Repubblica Popolare Cinese, si mira a elevarla fino a un gigawatt ed intende metterne in orbita centinaia. Le infrastrutture necessarie per le sperimentazioni sono state completate nel 2021 e sono localizzate nel distretto di Bishan, in un'area di circa 20.000 metri quadrati all'interno della quale non sarà consentito l'ingresso se non agli scienziati impegnati nei test. Errori di accensione e radiazioni sono rischi potenziali. Tanto che un team di ricerca della Beijing Jaotongi University ha suggerito di imporre un divieto di residenza in un raggio di 5 km quando la stazione ricevente terrestre entrerà in funzione per ricevere l'energia solare in arrivo dalla centrale orbitale. I ricercatori cinesi dovranno dimostrare che il trasferimento di energia solare può davvero funzionare su lunga distanza. Nei primi test sono riusciti a ricevere in un punto preciso l'energia emessa da una mongolfiera posizionata a 300 metri di altezza. Il prossimo step previsto è quello di raccogliere e ricevere energia solare a oltre 20 km di altezza tramite un dirigibile. Quello di riuscire un giorno a costruire una centrale solare in orbita è un vecchio sogno degli scienziati, visto che un normale impianto terrestre opera solo per un periodo limitato del giorno, cioè durante le ore di luce e a seconda delle condizioni atmosferiche. Senza contare che l'atmosfera riflette o assorbe circa la metà dell'energia proveniente dal Sole. Problemi che possono essere aggirati dalla costruzione di una centrale in orbita, che potrebbe restare esposta alla luce solare 24 ore su 24 per tutto l'anno. Secondo le stime, con il sistema testato dagli ingegneri cinesi la percentuale di energia persa nell'atmosfera crollerebbe drasticamente a circa il 2%. Del progetto si era parlato già nel 2018, ma è rimasto tutto bloccato per circa tre anni per dubbi sui costi ma soprattutto sulla sua fattibilità e sulla sicurezza della tecnologia utilizzata. I fondi e il supporto necessari per svolgere i test si sono sbloccati solo a giugno del 2021, in seguito ai reiterati annunci del governo cinese sulla necessità di arrivare alla neutralità carbonica nel giro di 40 anni. Ed è subito stata fissato un cronoprogramma molto intenso. Ma c'è anche chi sospetta che un progetto come quello che si sperimenterà a Chongqing possa contribuire anche allo sviluppo di nuove armi. D'altronde, anche l'esercito degli Stati Uniti sta mostrando un crescente interesse per la tecnologia solare. Integrare le tecnologie. Il numero di satelliti in orbita aumenta, anche per la loro utilità nell'applicazione terrestre. Non a caso, il 73% del fatturato attuale della Space Economy è legato ai quasi 5.000 satelliti in orbita che permettono di agevolare telecomunicazioni, navigazione e osservazione della Terra, oltre che sensoristica, antenne e geolocalizzazione. Nell'agenda 2030 dell'ONU sugli obiettivi sostenibili ci sono 17 obiettivi con 169 sottoobiettivi. Più del 50% di questi sottoobiettivi possono essere raggiunti dagli Stati, che si sono impegnati in tal senso soltanto attraverso l'uso dello spazio. Si pensi all'agricoltura di precisione, ai disastri naturali, alle migrazioni. In altre parole, qualsiasi sviluppo socio-economico sulla Terra è legato ai benefici dello spazio. Per raggiungere questo obiettivo, nel futuro, occorre far parlare le tecnologie spaziali fra di loro, di cui i satelliti sono una parte fondamentale. Gestire i dati provenienti dallo spazio. Se da un lato c'è l'integrazione delle tecnologie spaziali fra di loro, dall'altro c'è il dialogo fra queste tecnologie e quelle di frontiera come l'intelligenza artificiale. Questa integrazione aiuterà non solo a interpretare i dati spaziali più rapidamente, ma anche a sviluppare prodotti e servizi utili sulla Terra. Tuttavia, l'utilizzo dei dati spaziali non è di esclusiva pertinenza di coloro che ne sono proprietari, infatti ci sono diversi paesi che hanno satelliti in orbita e che consentono una maggiore precisione in varie attività proprio tramite il confronto fra i diversi dati, si pensi al meteo o all'uso della geolocalizzazione nei trasporti. Nella futura gestione dei dati provenienti dallo spazio sarà fondamentale la condivisione e la collaborazione, più che la proprietà. Rendere il trasporto di persone nello spazio accessibile Il mercato del trasporto di persone nello spazio è ancora dominato dalle big company ed i viaggi spaziali sono riservati per turismo a gruppi ristretti di persone particolarmente facoltose, ma con un progressivo aumento di investitori i costi col tempo caleranno consentendo a molte più persone di viaggiare nello spazio. Questo aprirà a più persone del mondo la porta dello spazio e comporterà nel medio e lungo termine alla creazione di ecosistemi economici in cui si lavorerà molto fuori dai confini terrestri, creando vere e proprie filiere industriali e commerciali, con un aumento del benessere complessivo dell'umanità. Il capitale umano Per poter sfruttare appieno le possibilità dell'economia spaziale, occorre mettere insieme dei programmi interdisciplinari per i leader del futuro che andranno ad operare in questo settore a 360 gradi. Occorre preparare la forza lavoro del futuro. Servono esperti del settore, ma non monotematici. Non si potrà lavorare nello spazio senza avere delle conoscenze economiche, regolatorie, finanziarie e di management oltre a quelle prettamente tecniche. Allo stesso modo, coloro che sono esperti economici dovranno affiancare nel proprio bagaglio delle conoscenze tecnico-scientifiche. Essere trasversali consentirà anche di sapere come gestire programmi internazionali con un approccio diplomatico. Lo stato giuridico dello spazio extra-atmosferico Quando gli attori si moltiplicano, la gestione normativa si complica. In questo caso, sarà necessario individuare rapidamente delle soluzioni, considerata la velocità dei progressi tecnologici raggiunti dalle aziende private. Se pensiamo, ad esempio, ad un futuro sfruttamento dei minerali presenti negli oggetti spaziali, vi sarà bisogno di una precisa regolamentazione perché non si creino delle vere e proprie guerre spaziali. Lo spazio possiede un proprio corpus giuridico, elaborato a partire da quando, ai primissimi albori dei programmi spaziali russi e statunitensi, la comunità internazionale avvertì la necessità di dare una regolamentazione alla materia al fine di evitare che potesse diventare luogo emotivo di conflitti. Già nel 1958, con la creazione dell'UNCOPUS, la Commissione delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extraatmosferico, iniziò il dibattito che portò alla conclusione, quasi dieci anni dopo, del Trattato sui principi che regolano le attività degli stati in materia di esplorazione e utilizzazione dello spazio extraatmosferico, ivi compresa la Luna e gli altri corpi celesti, più noto col nome di Trattato sullo spazio, Outer Space Treaty, del 27 gennaio 1967. Tale trattato, strumento di diritto internazionale e pertanto non strettamente vincolante, rappresenta tuttora il principale testo normativo dedicato allo spazio, ed il cui punto centrale è l'articolo secondo che dice che la Luna e gli altri corpi celesti non possono formare oggetto di appropriazione nazionale attraverso proclamazioni di sovranità, mediante utilizzazione o occupazione o con qualsiasi altro mezzo. Ma afferma anche la loro esplorazione e utilizzazione da parte degli stati è libera e va esercitata senza discriminazione di alcun tipo, in condizioni di uguaglianza e in conformità al diritto internazionale con libero accesso a tutte le parti dei corpi celesti. Nulla si dice, in modo specifico, sulla sorte delle risorse una volta che queste vengano separate dal corpo cui appartengono. Sono seguiti i seguenti trattati. Accordo sul salvataggio e recupero degli astronauti e degli oggetti spaziali, emanato nel 1968, tratta della cooperazione internazionale che interviene in caso di necessità. Ad esempio affronta il problema del salvataggio degli astronauti. Viene stabilita infatti una procedura in caso questi incorrano in una situazione di pericolo. In seguito a questo tutti i paesi firmatari hanno l'obbligo di fornire tutta l'assistenza possibile. Viene prevista anche una compensazione economica per i costi legati al salvataggio e al recupero dell'oggetto spaziale. Questo accordo però viene spesso criticato perché considerato troppo vago. Non viene infatti data una definizione di astronauta o di oggetto spaziale e la questione della compensazione viene siccitata, ma mai regolata. Convenzione per la responsabilità internazionale su danni causati da oggetti spaziali, emanata nel 1972, stabilisce che un eventuale soggetto danneggiato sulla Terra non deve dimostrare la colpa dell'oggetto spaziale per il danno provocato, ma può chiedere direttamente il risarcimento allo stato proprietario dell'oggetto. Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio, emanata nel 1975, assume una particolare rilevanza per identificare lo stato di lancio dell'oggetto spaziale. Accordo sulle attività degli stati sulla Luna, emanato nel 1979, ha avuto poche ratifiche, solo 13. L'accordo, pur riprendendo principi generali dello spazio, voleva istituire un regime di sfruttamento della Luna che prendesse in considerazione anche gli interessi dei paesi in via di sviluppo. Questo accordo non fu accettato da Stati Uniti, Russia e Cina. Nell'ottobre del 2020 è stato pubblicato il testo degli accordi di Artemis. Questi accordi di Artemis sono accordi bilaterali consistenti in dieci principi che non rappresentano una base legislativa internazionale vincolante, ma sono stati creati dalla NASA e dagli Stati Uniti per attuare più nel dettaglio alcune regolamentazioni del trattato sullo spazio extraatmosferico del 1967. Gli accordi di Artemis quindi non sono vincolanti, non c'è bisogno di rispettarli per andare sulla Luna, ma sono necessari per poter partecipare al programma Artemis e a tutte le nuove missioni lunari che lo circondano. Fino ad ora sono 21 i paesi firmatari ed ogni paese firmatario di questi accordi infatti, li sottoscrive unilateralmente con la NASA. Sono cioè un documento che ogni paese firma con la NASA e non una collaborazione nella quale ogni aderente si inserisce. Ma stabilendo dei precedenti, potrebbero avere un'influenza significativa su qualsiasi successivo quadro di governance per gli insediamenti umani su Marte e oltre. Questi accordi di Artemis, collegato all'omonimo programma della NASA, contiene i principi graditi agli Stati Uniti su questioni come lo sfruttamento delle risorse naturali presenti sul suolo lunare o sulle comete e gli asteroidi, oppure il ruolo dei governi nella protezione dei siti minerari o delle basi. In altre parole, gli accordi di Artemis vogliono diventare il nuovo riferimento internazionale per la condotta spaziale dopo il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, elaborato in sede ONU. Tra i paesi che non hanno alcuna intenzione di firmarlo ci sono innanzitutto la Cina e la Russia, che hanno i propri piani per lo spazio e non vogliono sottostare agli standard americani. Quelli che invece teoricamente potrebbero, perché alleati di Washington, ma hanno delle riserve sono la Francia e la Germania, i due attori spaziali principali dell'Unione Europea. Le divisioni tra Washington, Parigi e Berlino non si limitano allo space mining. Gli Stati Uniti, infatti, vogliono istituire delle zone di sicurezza nello spazio, un concetto che potrebbe consentire loro di rivendicare l'accesso esclusivo a certe parti di cosmo, esattamente il contrario di quanto affermato nel Trattato del 1967. Anche l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, non aderisce agli accordi di Artemis in quanto persegue obiettivi di autonomia strategica e non vuole continuare a dipendere dagli Stati Uniti. La difficoltà sta nel raccogliere consensi in sede comunitaria, anche perché diversi membri dell'Unione, come l'Italia, si sono già uniti agli accordi di Artemis. Un altro grande attore che non ha aderito agli accordi di Artemis è l'India. In conclusione si può dire con certezza che il diritto dello spazio è, almeno per il momento, ancora ai primi passi. Passeranno probabilmente diversi anni prima che si possa passare dal diritto internazionale a quello interplanetario. Guardando più lontano è possibile ipotizzare che in futuro verranno create, per cominciare, colonie stabili sul suolo lunare o quello marziano e più avanti sulle lune di altri pianeti del sistema solare o sugli asteroidi più grandi. Sono tante e ardue le sfide che costellano il cammino che l'umanità dovrà affrontare per arrivare a tale traguardo. Sfide scientifiche, tecnologiche, ma anche di diritto. Quali leggi si applicheranno nella vita quotidiana di una colonia extraterrestre? Quale forma di governo? Quale forma di stato si può immaginare per una colonia, nel lontano futuro del suo sviluppo, indipendente dal pianeta Terra? Come affrontare il tema della nazionalità per coloni di seconda generazione? E i discendenti dei primi coloni saranno ancora esseri umani, con pari diritti, o una volta intervenute ipotetiche modificazioni biologiche incompatibili con la vita sulla Terra essi cesseranno di essere definibili umani? È una strada piena di interrogativi su cui è necessario incominciare a riflettere. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.